Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube, oggi finalmente mi vedete, sono ritornato nella mia postazione che tanto mi era mancata, ma era mancata anche a voi, da quelli che sono stati i vari commenti nelle live e anche qui nei video, vi mancava vedermi nella Batcaverna, ma siamo tornati, non vi preoccupate, difficilmente la riabbandoneremo nel prossimo periodo e oggi sono qui perché mi viene anche un po' da ridere onestamente a dirlo, ma ci troviamo praticamente in prossimità dell'ennesima patch, vi dico ennesima perché non se ne può più, infatti prima di andarla a vedere volevo un attimo fare una piccola riflessione con voi siamo praticamente ad oggi 9 dicembre, per cui sono passati ufficialmente due mesi dall'uscita del gioco, 60 giorni, nei quali siamo arrivati alla settima patch, per cui è come se fosse praticamente una media di una patch ogni 8 giorni, ogni 9 giorni, insomma, giù di lì e credo che la cosa sia diventata un attimino un circo, insomma, non ci si può permettere di rilasciare patch a questa frequenza, perché insomma, bisognerebbe pensarci un attimino prima e rilasciare un gioco un pochino un po' più bilanciato, secondo me, oltre, a mio modo di vedere, questa patch rischia di mettere l'ennesima pietra tombale sul gameplay di quest'anno sancendo neanche tanto un ritorno a FIFA 20 quanto un andare in una direzione, insomma, sconosciuta quindi direi che possiamo tranquillamente passare a vedere quelle che sono le novità introdotte intanto ho fixato anche quello che è il cambio di scena, così siamo tutti quanti più contenti e ci immergiamo immediatamente nel FIFA 21 title update numero 7 ovviamente andremo a vedere quelle che sono i cambiamenti di gameplay, quelle che sono ovviamente le novità che ci interessano il resto lo lasceremo ai poster, vi lascio magari il link nella descrizione del video se vi interessa di andare a leggere tutte le varie cose allora, sono stati effettuati i seguenti cambiamenti ridotta la velocità con la quale la palla viaggia quando fai un driven o un driven ground cross cosa vuol dire questo? Il cross teso, ossia quello che voi andate ad eseguire schiacciando il tasto del tiro a giro come quando andate a eseguire i driven pass, quindi andate a capire questo viene notato in maniera significativa quando andate a fare un driven o un driven ground cross con un giocatore che ha l'attributo di cross da 75 in giù più è alto l'attributo di cross, minore questo effetto ovviamente viene percepito e già far ridere così, perché soprattutto a livello competitivo, ad alto livello, ma neanche tanto perché basta andare in weekend link ormai per trovare quelli che sono giocatori pompati e sfac questa cosa praticamente è come se non l'avessero eseguita, amici miei perché facendo questo va a creare un ulteriore gap tra quelli che magari sono i giocatori forti e quelli deboli andando sempre nella solita direzione del cosiddetto tra virgolette petuine ma in questo caso è neanche enorme questo problema però non mi fare un cambiamento se poi effettivamente sai che i giocatori più utilizzati hanno tutti quanti attributi altissimi di passaggio e di conseguenza tu non lo vai a notare quindi il problema non viene risolto visto che comunque questi cross sono belli belli buggati e quest'anno soprattutto se c'è il difensore davanti e voi lo fate bene comunque la palla arriva all'attaccante che segna però diciamo che prima cosa abbastanza ambigua secondo punto diminuita la precisione del tiro al volo nel caso in cui la palla sta raggiungendo il calciatore alla massima velocità quindi praticamente vengono ridotti i tiri al volo fatti di prima una volta ricevuta la palla da un driven o un driven ground cross le cose sono un attimino collegate in questo caso però non si parla di attributo di tiro al volo che magari va a influire o meno su questa cosa questi vengono depotenziati e basta quindi aspettatevi che nonostante questi cross funzionano molto spesso probabilmente dopo il tiro al volo la palla sfaciolerà anche se magari vi trovate davanti alla porta quindi altro punto insomma un po' ambiguo a mio modo di vedere terzo punto che riguarda i nostri amici arbitri che sappiamo insomma quest'anno prendere delle decisioni un attimino opinabili sono uscite svariate patch che dovevano in teoria andare a toccare il decision making dell'arbitro forse siamo arrivati alla patch giusta di fatto si dice aggiustata la logica secondo la quale gli arbitri adesso sono in grado di valutare meglio le situazioni e dare dei cartellini gialli quando effettivamente devono essere devono essere dati ulteriori informazioni circa ah scusatemi ulteriori miglioramenti circa la logica di intercettazione in situazioni nella quale il giocatore che difende si trova nella direzione del passaggio questo cambiamento si va ad applicare solo in quelle situazioni dove il portatore di palla sta passando la palla ovviamente insomma non mi sembra una cosa che andava specificata l'ultimo punto di questo primo gruppone di novità fantastiche è quello che mi lascia un attimino un po' più perplesso ossia diminuita l'efficacia della finta di tiro mentre si è in corsa ok? dopo che insomma la finta viene successiva viene richiesta con successo e ti dico un attimino anche qua di perplessità perché probabilmente era rimasta una delle poche cose efficaci in un meta dove ormai tutti quanti stanno andando a piazzare pullman davanti l'area di rigore finta di tiro che magari era un po' troppo sgravata in alcune situazioni andavi a trapassare l'avversario ma qui veramente si stanno andando a togliere tutte le armi in mano al giocatore per cercare di rompere i muri di cpu quindi un'altra volta magari filtranti con finta di tiro iniziano a diventare un problema e quindi camper difensivi che saranno in full force probabilmente a partire dalla prossima patch poi abbiamo toccato anche i seguenti problemi abbiamo migliorato la logica di selezione dell'animazione quando il giocatore controllato era il portiere di conseguenza quindi quando andate magari a muovere il portiere dovrebbe fare delle animazioni che vi consentono di parare e non animazioni del cavolo che magari il portiere vi si buggava e prendevate gol anche se magari si trovava sulla direzione del tiro alcune volte i falli al limite dell'aria risultavano in incorretti piazzamenti del pallone vi ricorderete? non so se l'avete visto il video che ho postato da qualche parte pare Twitter e Instagram dove io venivo falciato in area di rigore il mio giocatore atterrava talmente che il fallo era forte fuori dall'aria e mi è stata data punizione dal limite dell'aria vediamo se effettivamente questa cosa viene aggiustata l'arbitro in game aveva fatto la corretta decisione in queste situazioni ma la risoluzione del fallo poteva sembrare come se il fallo fosse accaduto in un posto lievemente differente invece cosa non corretta è che l'arbitro farneva delle decisioni del cavolo totale quindi non vi parate il culo amici miei dell'EA e vabbè, improved, quindi aumentata la logica dell'arbitro in situazioni dove un fallo è commesso dall'ultimo giocatore in difesa andando a impattare una potenziale opportunità di attacco onestamente non ho capito bene qui a cosa si riferiscono in alcuni casi l'arbitro non faceva la corretta chiamata di fallo dopo un physical contest, uno scontro fisico o uno standing tackle quindi tutti quelli che erano magari quei rigori che venivano dati a caso con dei contatti minimi e marci in teoria forse non accadono più forse il chop skill move ora potrebbe non essere performata mentre si corre vabbè ridotti i casi in cui il portatore di palla inciampava dopo un minimo contatto fisico nell'area e questo poteva portare a chiamate di rigore errate dite incrociate in alcune situazioni un giocatore che stava tentando incertare un passaggio muoveva il suo piede lontano dal pallone ok in alcune situazioni il giocatore si teletrasportava durante un fallo non di gioco dopo il vantaggio quindi un'altra cosa magica che fortunatamente non mi è mai capitata altrimenti sarebbe stato tutto da ridere e niente poi vabbè sciocchezzuole riguardanti ultimi team volta career mode general visual and audio non ce ne frega nulla ah aspettate questo me l'avevate chiesto in tanti forse hanno insomma updateato aggiornato molti kits e stadium sta roba del monitoraggio della connessione adesso è settata in automatico come i console invece di off quindi se la volete togliere dovete andare voi a mettere off e che dire ragazzi niente per questo video fondamentalmente è tutto patch che è già uscita su pc arriverà a breve su console vediamo quanto a breve vediamo che cosa accadrà effettivamente su console magari mi vedete un po' più depresso del solito perché veramente non ne posso più di queste patch che vanno ogni volta a peggiorare la situazione ne escono magari tu ti abitui al gameplay e poi la situazione va a peggiorare in un amen quindi sono un attimino triggerato curioso di vedere cosa accadrà ma la direzione che i nostri amici di A stanno prendendo non è delle migliori secondo me io raga vi ringrazio per aver visto questo video vi ricordo di lasciare un like un commento dove mi fate sapere che ne pensate che è fondamentale iscrivetevi al canale che cresciamo alla grande siamo vicini ai 10.000 e la cosa mi fa strapiacere io vi aspetto ogni giorno in live ve lo sapete sulla piattaforma Viola tutte le info in descrizioni e non mi resta che salutarvi ciao ciao ciao